Brigitte Bardot, il gioco dell'amore e della celebrità. L'epilogo di quel 1956 fu come uno di quei treni che passano una sola volta nella vita e che cambiano un destino. Brigitte Bardot, su quel treno che portava il nome di «Edieu crea la femme» era salita sedendosi comodamente davanti a un finestrino osservando il paesaggio a sfrecciare e la sua vita con esso. Ma se realtà e finzione si mescolavano nella vita della nuova celebrità mondiale, se l'orfanella Juliette contro ogni convenzione sociale saliva in cattedra e sceglieva da sola i suoi amori, lo stesso faceva BB, che come l'eroina del film di Vadem si era innamorata del suo coprotagonista. Da tempo la passione per suo marito aveva ceduto il passo ad una consolidata sinergia artistica tra i due coniugi, con nubio professionale, di cui BB e Roger si sarebbero goduti rutilanti effetti. Le voci di una relazione con Trintignan si erano fatte insistenti già durante le riprese per essere confermate subito dopo l'uscita del film. Vadem, dal canto suo, aveva conosciuto e iniziato a frequentare la modella e attrice svedese Annette Stoiberg, sua seconda moglie, dopo il divorzio da BB nel 1957. Pare che Levy, per comunicare ai diretti interessati che il film stava sbancando al botteghino, fece irruzione nel ristorante in cui Vadem, Stoiberg, Bardot e Trintignan stavano cenando tutti insieme come se nulla fosse, un quadretto familiare in cui la finzione cinematografica andava a braccetto con la realtà. La storia d'amore con il 26enne Jean-Louis Trintignan, un volto da bravo ragazzo e il talento di impiegarlo per dare vita ad una gamma di personaggi a volte docili come un cerbiatto, altre volte psicologicamente instabili, era nata sul set del film. Durante le pause tra un ciac e l'altro, i due amanti si erano concessi notti in spiaggia sotto le stelle, ogite fuori porta su una vecchia simca sbrindellata. Finito di girare, BB e Jean-Louis si erano spostati nell'appartamento parigino di Rieu Chardon Lagache. Alla fine dell'anno, BB si trasferì al numero 71 di Avenue Paul Dumers, uno storico appartamento al cova presto silenzioso spettatore delle vicende amorose della padrona di casa. Anche Jean-Louis era sposato, ma non erano i rispettivi matrimoni a ostacolare la nuova liaison, quanto gli impegni cinematografici e mondani di BB da un lato e la leva militare di Jean-Louis, che arrivò in un momento delicato della storia francese, tra i rigurgiti al fronte algerino e la crisi di Suez, due eventi che avrebbero finito per smontare definitivamente quel che era rimasto del passato colonialista francese. Intanto, alla fine di ottobre, poco prima che Rieu uscisse nelle sale francesi, BB era a Londra a provare la sua prima e unica riverenza ufficiale. Invitata per partecipare al galà per il lancio del film La battaglia di Rio della Plata, di Michael Powell ed Emeric Pressburger, la premiata ditta della celebre pellicola Scarpette rosse del 1948, Brigitte era attesa a corte per incontrare e salutare come si conveniva la regina Elisabetta II. Nell'estate del 1956, BB aveva girato la Marie Etrobelle, la sposa troppo bella, di Pierre Gaspar Witt, in cui aveva indossato due meravigliose creazioni di Pierre Balmain, un abito da sera e un abito da sposa. Oltre alla prossima presentazione a corte, che le imponeva un certo rigore nella scelta della mise da indossare, vi era un'altra ragione che la spinse a recarsi all'atelier del celebre Couturier francese per non sfigurare all'imminente Kermessa oltre Manica. Oltre alla regina e ai membri della famiglia reale, il 29 ottobre avrebbe incontrato anche Marilyn Moreau e Anita Ekberg. L'agitazione della futura diva era palpabile per i corridoi e le scalinate dell'atelier. «Se la Moreau fa vedere più di me, mi uccido», avrebbe detto gettandosi disperata tra le braccia dello stilista. Così, tra una prova e l'altra dell'inchino sotto l'obiettivo del fotografo Walter Rizzo, Balmain le trovò uno straordinario abito di raso bianco, con un corpetto e parte dell'ampia gonna sbuffo, coricami in fantasie floreali e arabeschi di perle e oro zecchino, il cui delicato décolleté fu ulteriormente assicurato con l'aggiunta di una piccola fettuccia cucita all'ultimo minuto dei sarti dell'Hotel Plaza di Londra, perché a Buckingham Palace lo avrebbero trovato troppo generoso. Lunghi, lunghi guanti bianchi, i capelli raccolti in un'elegante acconciatura e una frangetta che ne enfatizzava l'aspetto fresco e radioso, fecero il resto, senza che la modifica finale dell'outfit avesse scomposto BB come testimoniano gli scatti di quella serata. E Marilyn, poco prima di essere presentata ufficialmente alla regina, Brigitte era corsa a darsi un'ultima occhiata nella dressing room di Buckingham Palace. Il caso volle che proprio lì, mentre si stava incipriando il naso, le due leggendari icone si incontrarono per la prima e unica volta, scambiandosi un saluto. Era bella, fresca e pura, la sua vulnerabilità era toccante, avrebbe detto BB, della diva americana, molti anni più tardi, forse intravedendo già allora, prima di diventare lei stessa una leggenda, i pericoli che si celano dietro al gioco della celebrità.